Testa amichevole oggi alle 16 per il Pescara, lo stadio Ghetto di Febbo di Silvi contro la città di Montesilvano. Sarà l'occasione per verificare le condizioni degli acciaccati in vista del match di domenica alle 19.30 a Lucca con diretta televisiva su Rete 8 e ampio prepartita a partire dalle 18.30. Sempre in giornata verrà effettuata l'ecografia d'Edoardo Pierozzi che si è fermato in settimana per un problema muscolare. Intanto ieri sera cena di gruppo della squadra, presto il ristorante Sums di Pescara. Leggo e vedo interviste di gente che parla oggi che siamo prima in classifica ma vorrei chiedere a quelli che oggi parlano se il Pescara era decimo in classifica, se avevano ancora la voce di tirare fuori o meno. Non bisogna pensare a nulla se non al quotidiano, se non a una partita alla volta perché questa è la nostra forza. Se tutti quanti noi pensiamo a Pescara per un classifica, abbiamo vinto il campionato, è l'inizio della fine. Dobbiamo essere concentrati giorno per giorno. Pierozzi, intanto ad obbligo chiederti come stai perché un piccolo spavento c'è stato nell'ultima seduta. Sì, sì, purtroppo a volte dobbiamo ascoltare il nostro corpo, l'allenamento, dato che noi spingiamo sempre al massimo. Ieri ho dovuto un attimo comunicare al mister e allo staff che non mi sentivo al meglio ma spero in qualche giorno, tra oggi e domani, di risolvere tutto. A disposizione per tutti. Spero proprio di sì. Che campionato è fino a questo momento per il Pescara e dal punto di vista tuo personale? Assolutamente è un campionato sopra le righe perché ci stiamo dimostrando veramente una corazzata, una squadra come dice il mister. Quindi non possiamo che essere che orgogliosi e anche io sono molto contento del mio rendimento, ho trovato continuità e questo mi rende veramente felice. Mi dà fiducia, io faccio ciò che mi chiede e cerco di entrare il più concentrato possibile e dare il mio contributo alla squadra. Massima concentrazione, fare ciò che il mister chiede. Mi piace a tutti giocare dall'inizio, è normale anche a me. Io sto alle scelte che fa il mister e basta.